All'Aquila nascono le comunità energetiche e rinnovabili e ci saranno nuovi impianti fotovoltaici. L'Aggiunta ha approvato la costituzione di tali comunità con lo scopo di migliorare l'efficienza ma anche l'economicità dei servizi. Ci saranno progetti di ammodernamento delle strutture comunali da fonti rinnovabili con la partecipazione delle comunità locali. Attualmente il bando per partecipare è ancora aperto e è stata altissima la partecipazione. La rete aquilana ne avrà quattro. La realizzazione degli impianti è prevista a Pile e Piazza d'Armi per la zona ovest, a Via Leoviglia, al Palazzetto dello Sport e allo Stadio Gran Sasso per la zona centro. Abbazzano e Fonte Cerrito a coprire la zona est. I vantaggi sono enormi su molti aspetti. Innanzitutto da un punto di vista ambientale perché l'energia prodotta all'interno delle comunità energetiche che stiamo costituendo è un'energia pulita da fonti rinnovabili. E ovviamente anche un guadagno economico sia per le famiglie che per le imprese. Infatti hanno aderito al nostro avviso di costituzione di comunità energetiche. Ne abbiamo un piccolo inciso, ne abbiamo costituite quattro perché all'interno del nostro territorio, del territorio comunale, ci sono quattro cabine primarie. Quindi per dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare, di cogliere questa opportunità, abbiamo costituito una comunità energetica su ogni cabina primaria. Ovviamente l'energia prodotta e scambiata all'interno della comunità verrà acquisita dai consumatori ad un prezzo notevolmente inferiore. Il governo ha stabilito anche delle premialità per ogni kilowatt di energia scambiata. Insomma ci sono tutta una serie di benefici economici e ambientali da non sottovalutare. In più stiamo rispondendo ad un bando che finanzia la realizzazione di impianti fotovoltaici. Abbiamo previsto sei impianti sulle quattro cabine primarie di cui vi parlavo prima per un totale complessivo di 20 milioni. Speriamo quindi che la realizzazione degli impianti dia un impulso decisivo alla nascita e alla realizzazione di queste comunità energetiche.